Senza stampa del Movimento 5 Stelle a Ferrara, la capogruppo in regione Sensoli annuncia un'interrogazione sull'ospedale di Cona e un esposto alla magistratura. Nel 2009 l'Inail si era impegnata con 65 milioni di euro per la costruzione, poi nel 2012 il dietrofront perché la struttura non avrebbe rispettato leggi antisismiche varate però successivamente ai lavori. L'azienda ospedaliera non si oppose alla scissione del contratto. All'appello secondo i 5 Stelle mancherebbero anche i 30 milioni mai arrivati dalla vendita del vecchio ospedale di Via Giovecca. A chi sono in carico questi 95 milioni? All'azienda sanitaria scrivono i 5 Stelle nella richiesta della regione sollevando il dubbio che possano aver gravato anche sul fallimento di Carife e all'epoca tesoreria dell'ospedale. A noi non risultano le coperture che sono venute a mancare, specialmente quella riguardante l'Inail. Riguardo il vecchio ospedale Sant'Anne ai 30 milioni, quantomeno crediamo che dopo 10 anni sia necessaria una rivalutazione rispetto alla potenziale vendita dell'immobile.